Sono anni che le donne del Bangladesh lottano spesso in vano per l'uguaglianza. Un segnale positivo arriva dalla magistratura di Dhaka sull'uccisione di una giovane studentessa che aveva denunciato delle molestie. Sentiamo questa storia raccontata da Tiziana Boari. Lo aveva promesso meno di un mese fa Ceykazina Vazed, la primo ministro bengalese. Nessuno sfuggirà alla giustizia e oggi sono 16 le persone incriminate per l'omicidio di Nusratia Hanrafi, la studentessa di 19 anni, bruciata viva il 6 aprile per aver denunciato le molestie sessuali che aveva subito da parte del preside della sua madrassa Feni, nel sud-est del Bangladesh. La giovane, prima di morire per le ustioni subite, era riuscita a spiegare l'accaduto. Il primo ad essere incriminato era stato proprio il dirigente scolastico, accusato di aver dato mandato di uccidere la ragazza nel giorno dei suoi esami finali dopo che lei aveva rifiutato di ritirare le accuse contro di lui. Tra gli incriminati anche diversi studenti e amministratori della scuola coranica e due politici locali, membri del partito di governo, la Lega Popolare Bengalese. Per tutti l'accusa ha chiesto la pena di morte. I due politici e gli altri due imputati si sono proclamati innocenti, gli altri hanno confessato. Non è ancora stata fissata la data del processo, ma nel Bangladesh musulmano e patriarcale queste incriminazioni così veloci segnano già un cambio di passo importante.